Come trainare l'hpb surgeon in la laparoscopia? L'aparoscopia è solo una forma. Dobbiamo trainare l'hpb surgeon in il mestiere della malattia, conoscere il paziente. L'aparoscopia e robotica sono una tecnica, una strada. Credo che la cosa più importante è di insegnare i principi delle malattie. E, per esempio, come si tratta con le persone, come si tratta con i pazienti, come si tratta con le persone, come si tratta con le nostre strumenti. Instrumenti sono diversi, ma si tratta di sviluppare. Dobbiamo imparare, come si tratta. L'aparoscere con le persone è un privilegio e bisogna dare loro tutto ciò che hanno bisogno. come si tratta con le nostre strumenti. L'aparoscopia è una tecnica. Credo che bisogna essere aware che c'è una grande pressione dall'industria per commercializzare dispositivi. per esempio, per esempio, che bisogna essere molto equilibrati e pensare sempre di pensare che gli pazienti. Abbiamo anche di accettare che la tecnologia non è ancora qui per farlo per farlo per fare tutto che possiamo e vogliamo fare per i pazienti. in l'opera. E quindi, perché non? Dobbiamo adattare e chiedere l'industria per perdere i interessi e per provare di sviluppare instrumenti per fare minimale invasione più facile. Non necessariamente minimale invasione è meglio. Il progetto è di trattare un paziente. Il progetto è di perdere il canzio. non è necessario fare un'operazione meglio di qui o qui o qui. Abbiamo un altro focus. In un centro con un alto volume di chirurgia lavorando in team? Adesso specializzati patologici con canzoni difficili sono trattati infortunatamente e non sono sorry per dire questo in specializzati centri che che hanno l'esperienza che hanno la possibilità di trattare i pazienti 24 7 ogni momento provando difficili complicate o che possono occurre ogni momento con l'esperienza questo è la differenza tra un centro e un centro con volume se sei un person che pensi che voglio vedere molte casi ogni giorno e in un anno finire l'esperienza non 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 di sì non sempre concentra con il centro e centralizzazione per rare e complexe diseases.